Musica Buonasera, buonasera a tutti voi, bentrovati. Ci risiamo ancora a un arresto per maltrattamenti in provincia di Catania. Ne raccontiamo tutti i giorni di situazioni del genere. In carcere è finito un 34enne che giornalmente minacciava e picchiava i genitori per ottenere denaro per acquistare droga. Un 34enne catanese è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania a seguito di indagini condotte dalla procura e su disposizione del GIP del Tribunale Etneo per i reati di maltrattamenti in famiglia e distorsione nei confronti dei genitori. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri di ACI Sant'Antonio, le indagini hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo che sin dall'inizio del 2020 avrebbe reiteratamente sottoposto entrambi i genitori ad un vero e proprio regime di terrore costringendoli a vivere la quotidianità in un clima vessatorio caratterizzato da offese, minacce di morte e richieste di somme di denaro. In particolare in diverse occasioni, dopo aver assunto stupefacenti, lo stesso si sarebbe rivolto al padre e alla madre con gravi espressioni minatorie quali «Vi taglio la testa» o «Vi dugno a fuoco», passando poi per le vie di fatto con spintoni ad entrambi e schiaffi per la madre, colpevole di aver tentato di riportare il figlio alla calma. Le diverse aggressioni fisiche poste in essere dal 34enne in danno dei genitori, come pure il danneggiamento delle suppellettili, sarebbero state in realtà azioni strumentali alle richieste di denaro per importi variabili tra i 30 e i 100 euro, nella maggior parte dei casi soddisfatte dai familiari totalmente impauriti e sottomessi. Nonostante a luglio l'uomo, a seguito dell'intervento dei carabinieri su richiesta dei genitori, si fosse volontariamente allontanato dall'abitazione, il clima familiare sarebbe addirittura peggiorato, poiché i due coniugi avrebbero continuato a subire incursioni notturne a casa da parte del figlio, che puntualmente, dopo averli minacciati di morte, avrebbe continuato a chiedere ad entrambi del denaro. Adesso, come detto, il 34enne è stato rinchiuso in carcere. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di paternò e della stazione di Biancavilla nel primo pomeriggio di oggi hanno tratto in arresto una persona. Al momento non si conosce il capo d'accusa. Maggiori dettagli saranno resi noti dal comando provinciale dei carabinieri di Catania già nelle prossime ore. Un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla polizia di Adrano per aver violato il DASPO, a cui era sottoposto il giovane. È stato sorpreso nelle vicinanze dello stadio di paternò durante la partita di calcio paternolicata, mentre invece doveva presentarsi in caserma dai carabinieri. Sentiamo. Agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, come riportato nei giorni scorsi dalla nostra testata giornalistica, hanno denunciato un giovane di 26 anni nel corso dell'incontro di calcio paternolicata, valevole per il campionato di calcio di lettanti Serie D, disputatosi allo stadio Falcone Borsellino di paternò lo scorso 16 ottobre. È stato sorpreso nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo, mentre invece in quel momento si sarebbe dovuto presentare presso la stazione dei carabinieri di paternò. Il giovane infatti è destinatario di un provvedimento emesso dal questore di Messina che gli vieta l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO, per un periodo di sei anni e che contiene altresì l'obbligo di recarsi presso un ufficio di polizia nel corso delle manifestazioni stesse. Avendo pertanto violato il suddetto obbligo di presentazione, il giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria, rischiando per tale violazione la pena della reclusione che va da un anno a tre anni e la multa che va da 10.000 euro a 40.000 euro. Ed è di oggi la notizia che i giudici delle sezioni unite civile della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile e confermato di fatto la condanna per l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo a risarcire le casse della regione. Lombardo per l'appunto è stata nuovamente confermata la condanna proprio nel pomeriggio di oggi a suo carico per la nomina e la successiva riconferma di un dirigente della regione. Per questa ragione il presidente della regione dovrà risarcire 52.000 euro alle casse regionali e per questa vicenda la procura della Corte dei Condi aveva disposto addirittura la citazione in giudizio per ben 14 ex amministratori regionali per un danno erariale di 893.942 euro. La partita di calcio paternò Catania del campionato di Serie D in programma per domenica 23 alle 15 si disfuterà allo stadio nobile di Lentini a porte chiuse a renderlo noto il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale di Lettanti che come si ricorderà il giudice sportivo a seguito delle intemperanze dei tifosi del paternò e del Licata verificatisi domenica scorsa ha squalificato il Falcone Borsellino per una giornata disponendo l'incontro paternò Catania in un campo neutro e a porte chiuse. Inoltre ha deciso anche che la prossima partita in casa del paternò sarà disputata anche in quest'ultima a porte chiuse e la società dovrà pagare 3.500 euro di multa, multa di 2.000 euro anche per il Licata. Il paternò intanto ha già presentato il reclamo contro la decisione del giudice sportivo e la questione sarà esaminata adesso dall'autorità giudiziaria competente entro la giornata di domani mattina. Due incidenti si sono registrati questo pomeriggio tra Santa Maria di Licodia e Biancavilla alcune persone sono rimaste ferite ma per fortuna non in maniera grave. Vediamo. Pomeriggio caratterizzato da due incidenti stradali, quello di oggi fra i territori di Santa Maria di Licodia e Biancavilla. Il primo si è registrato sulla strada statale 284 in territorio del comune di Santa Maria di Licodia. A scontrarsi sono state due auto. A seguito dell'impatto una delle due vetture ha effettuato un testa coda finendo al centro della carreggiata. Per fortuna nessuno degli occupanti dei due mezzi avrebbe riportato ferite di gravi entità. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. L'altro incidente si è verificato all'ingrocio tra le strade provinciali 44 e 167 a sud del centro abitato di Biancavilla. In questo caso due i feriti. L'impatto è avvenuto fra due mezzi, un camion ed un fiorino. Lo scontro è stato piuttosto violento. In un primo momento si era pensato al peggio ma per fortuna così non è stato. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso le due persone che erano a bordo del fiorino rimaste ferite. Si tratta di padre e figlio. Avrebbero riportato diverse ferite con una prognosi di 30 giorni ciascuno. Inleso il conducente dell'altro mezzo. Ad intervenire per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale di Biancavilla per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le eventuali responsabilità. Anche in questo caso il transito veicolare ha subito rallentamenti. Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio a Santa Maria di Ligodia per un incendio che ha interessato un albero di olivo nel Vico Trainara. I bombieri giunti sul posto hanno immediatamente spendo le fiamme evitando che queste si potessero propagare. La guardia costiera di Catania ha sequestrato un'area di 1000 metri quadrati che rappresentava una sorta di discarica abusiva a cielo aperto. Il sito è limitrofo al parco acquatico Etnaland. L'area era stata individuata lo scorso agosto durante un sorvolo di controllo. Quattro le persone denunciate. Sentiamo. Il personale della guardia costiera di Catania ha messo in sigilla ad una discarica abusiva realizzata in un appezzamento di terreno in cui sono stati incendiati i rifiuti prodotti dall'attivo parco acquatico Etnaland in territorio di Belpasso. Sequestrate anche 1000 metri cubi di rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani oltre alle attrezzature e ai mezzi utilizzati per commettere reati. Le indagini sono partite lo scorso mese d'agosto, periodo di massima attività di Etnaland, nel momento in cui il personale della guardia costiera, nel corso di un sorvolo di controllo del territorio di giurisdizione ai fini della tutela ambientale, annotato nell'area adecendo al parco acquatico delle grandi buche contenente considerevole quantità di rifiuti. Abbiata su disposizione della procura di Catania un'attività di videosoveglianza che ha permesso di scoprire l'azione messa in atto dei dipendenti di Etnaland, i quali ogni pomeriggio, dopo aver raccolto rifiuti del parco acquatico, li avrebbero trasportati nei terreni adecendo di proprietà dell'imprenditore presidente del CDA di Etnaland SRL, dove i rifiuti sarebbero stati selezionati e in minima parte consegnati a ditte specializzate. La rimanenza di E.S. nelle ore serali sarebbe stata incendiata e seppellita all'interno di una buca appositamente scavata nel terreno sequestrato e prospicente alla discarica abusiva. Per tale ragione sono indagati quattro soggetti accusati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti, incendi e inquinamento ambientale. Il giudice per l'indagine per eliminare il Tribunale di Catania ha convalidato il sequestro preventivo eseguito dai militari della Capitaneria di Porto, emettendo un proprio decreto di sequestro dell'aria e dei rifiuti ivi allocati dei mezzi e delle attrezzature. Dai primi rilevi tecnici eseguiti si è appurato che tale attività di abbruciamento e intobbamento dei rifiuti si sarebbe protatta per diverso tempo nel terreno oggetto del sequestro, che per inciso da misure catastali risulterebbe di tipo seminativo, cagionando di fatto un danno ambientale che a momento è in base di quantificazione. Durante questa attività di tutela e salvaguardia ambientale, il personale della Guardia Costiera si è giocato anche nel supporto tecnico scientifico del personale di Arpa Sicilia. Questa sera nella chiesa parrocchiale annunziata Biancavilla, si è svolto un incontro sul tema parrocchia sinodale e missionaria, la via del discernimento comunitario a cura del pastoralista Don Francesco Zaccaria. Porgeri saluti iniziali ai numerosi presenti in chiesa, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna e il parroco Don Giosuè Messina, mentre ad introdurre il tema dell'incontro è stato Dino Laudani. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni in occasione dei 70 anni del titolo di parrocchia delle chiese, Santa Maria dell'Idria, Cristo e Re, e per l'appunto annunziata. Un documento politico condiviso dagli 11 consiglieri comunali di Paternò di opposizione per chiedere chiarezza sull'affidamento degli interventi da parte dell'amministrazione comunale nell'area delle Salinelle. Ci sarebbero delle incongruenze. Sentiamo. Verificare la legittimità dei lavori di messa in sicurezza delle vie Acque Grasse, Fonte Maimonide e via dello Stadio, lo chiedono i consiglieri di minoranza che con un documento unitario pongono l'attenzione sull'iter amministrativo e sui lavori per l'affidamento diretto degli interventi dell'amministrazione comunale in quest'area, soprattutto su una presunta incongruenza nelle date tra la denuncia del serbatoio artificiale, l'invaso di circa 20 metri che risale al 4 ottobre, mentre la determinazione dirigenziale è stata registrata successivamente per l'esattezza in data 12 ottobre. Così gli 11 consiglieri, Benfatto, Firgolini, Terranova, Di Fazio, Piana, Tomasello, Calenduccia, Catena, Frisenna, Borzi e Russo. A ciò si aggiunge pure il fatto che le parti del territorio interessate dalle manifestazioni gassose delle salinelle sono sottoposti a vingolo paesaggistico, per cui, a detta dei consiglieri, sono vietate alcune attività che possono compromettere l'integrità e le dinamiche degli ambienti naturali. In particolare, scrivono i consiglieri, non è consentito alterare la morfologia del terreno e lo stato dei luoghi, asportare o danneggiare affioramenti rocciosi e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, realizzare nuove strade, nonché le modifiche plano-altimetriche tipologiche e formali a quelli esistenti, apporre strutture cartellonistiche non inerenti al geosito, solo per citare alcune previste per un geosito come quello di Paternò, istituito con decreto dell'assessorato territorio e ambiente del 2015. Segnaleremo quando accaduto affinché i fatti siano portati a conoscenza delle autorità competenti e affinché siano effettuate tutte le verifiche e i controlli del caso, sottolineano in questo modo i consiglieri comunali di opposizione di Paternò. Il procuratore capo del Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro, da ieri è socio benemerito dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia. La tessera di riconoscimento è stata consegnata durante un incontro presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Vediamo. Ieri Carmelo Zuccaro, procuratore della Repubblica di Catania, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Il procuratore è stato accolto dal Comandante Provinciale Generale Antonino Raimondo, unitamente ai comandanti del primo e secondo gruppo e del nucleo di polizia economico-finanziaria, nonché dei capo ufficio, comando e operazione del Comando Provinciale. Nel corso dell'incontro il presidente, il vicepresidente e il presidente onorario della locale Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia hanno consegnato la tessera di socio benemerito dell'Anfi al dottor Zuccaro per i numerosi ed importanti meriti conseguiti nel corso della sua carriera di magistrato e perché lo stesso è stato prima nel corpo della Guardia di Finanza come ufficiale di complemento e successivamente molto sensibile alle problematiche di servizio proprio della Guardia di Finanza, nonché alle attività dell'Anfi. Nell'occasione è stata consegnata al magistrato anche una targa ricordo. Zuccaro, al termine dell'incontro, ha voluto ringraziare il comandante provinciale, gli ufficiali del corpo presenti e i rappresentanti della locale Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia per la calorosa accoglienza. Domenica 23 ottobre a partire dalle 9.30 in Piazza Roma Biancavilla ci saranno 25 auto d'eccellenza tra Ferrari e Lamborghini nell'ambito della manifestazione Biancavilla ruggente organizzata dall'amministrazione comunale. Le vetture dei due prestigiosi marchi per l'appunto dell'eccellenza automobilistica italiana oltre a mostrarsi all'attenzione dei visitatori percorreranno un giro cittadino ospitando a bordo persone con disabilità delle associazioni Lotus ODB e insieme Onlus. Questa è l'ultima notizia, ci fermiamo qui. Grazie, come sempre, per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona e serena serata. Grazie.